Per il terzo anno consecutivo prosegue la partnership con Startup Italia. Per il terzo anno infatti siamo qui a Giffoni, abbiamo ideato una grande edizione del Sios Giffoni Edition. Sicuramente tanti sono i progetti in cantiere per i prossimi mesi che hanno come attori principali la generazione Z, quindi i nostri attori protagonisti delle attività a marchio Giffoni. Da 53 anni Giffoni ha sempre utilizzato il linguaggio cinematografico appunto per arrivare alle giovanissime generazioni, un linguaggio che continuiamo ad utilizzare ma che abbiamo anche unito al linguaggio di internet e di social media. Ovviamente l'eticità del brand Giffoni consente ai tanti genitori, alle tante istituzioni, di essere in un certo qual modo sicuri che qualsiasi cosa venga fatta qui a Giffoni venga fatta rispettando quelli che sono i nostri valori. Valori che poi vengono riconosciuti anche dagli stessi ragazzi che sempre di più numerosi appunto si avvicinano alle nostre attività. Da poco si è chiuso un percorso che è durato 365 giorni qui a Giffoni dal nome Giffoni for Kids. Abbiamo selezionato più di 300 startup provenienti da tutta Italia che avessero come target di riferimento il mondo Kids e Teens e che lavorassero appunto sul mega tema che a noi c'è molto caro che è quello dell'entertainment. Un percorso che ci ha dato molte soddisfazioni e che già stiamo iniziando a vedere in questi giorni i primi risultati, quindi molti ragazzi che ci richiamano appunto per ricominciare il percorso in ottica appunto di prospettive future e di partnership che possono appunto migliorare il loro business.